Ehi, onashimasu! Benvenuti di WonderKanaka Kakao Nike Siamo la settima settimana della spada Sono molto contento che siamo arrivati fino a questo momento Abbiamo iniziato questo progetto partendo dai cinque zucchi di Joe poi abbiamo fatto gli appogheri ho fatto un po' di esercizi da poterci allenare qui a casa e siamo arrivati a giugno effettivamente è passato molto tempo sono molto contento che siamo arrivati, ci siamo un pensiero a chi non ce l'ha fatta un pensiero a tutti coloro che hanno resistito come noi tutti a casa molti non riescono a partire a giugno perché ovviamente nel caso della Sardegna la maggior parte della gente d'estate non va in dojo, capito? io, Kanko Kanai che è il dojo di Sinai il nostro corso viene aperto dentro una scuola e le scuole attualmente sono chiuse pertanto probabilmente noi proseguiremo l'allenamento per la felicità di chi sta seguendo il canale lo proseguiremo e avrete più occasioni di andare nel noi abbiamo la pinata vicino quindi chi aveva desiderio di allenarsi acquisire skill attraverso l'allenamento del Ken e del Joe potrà farlo in pinata non per forza di cosa dentro casa ok comunque sia ho messo anche un piccolo brevissimo video dove si può utilizzare un piccolo bastoncino per fare l'allenamento e o senza andare a sprecare soldi e questo ve lo dico tranquillamente andatevi a comprare dei bastoni dai cinesi io li chiamo cinesi perché ovviamente ci sta anche Brickoman che è stupendo il paradiso di noi maschetti potete andare a Brickoman o ci sono i vari tipi di bricco organizzati dai cinesi perché qui in Sardegna ce ne sono io so che esistono anche nel continente italiano quindi in generale la parte continentale italiana che intendiamoci comunque sia perché qui in Sardegna lo chiamano il continente comunque ci sono vari tipi di bricco e potete prendere dai loro dei bastoni di varie altezze o anche farvelo tagliare tendenzialmente Brickoman ve lo taglia Bricko World o vari tipi di bricco cinesi non credo proprio però in generale l'idea è quella potete prendere dei bastoni semplicissimi e tagliare ovviamente un consiglio utilizzate della carta vetrata e levigatelo perché è brutto avere le schegge in mano detto questo oggi facciamo Shichino Suburi che compare nel Shichino Suburi Nanahon il settimo Suburi è peculiare per il fatto che da un tato taglia dall'altro fatsuki ok quindi questo per dirvi la cosa ultima cosa iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale ti state aiutando ormai mancano meno di 40 persone ai 3000 e come vi ho anticipato negli altri video a raggiungimento dei 3000 voglio fare una festa voglio parlare anche di altri canali ai nostri amici che ci hanno aiutato in queste settimane mi hanno tenuto anche compagnia perché hanno fatto dei bei video non si può non ammetterlo e nel contempo farò dei giveaway ossia voglio dare un pensierino per me i 3000 è un ricordo perché è un raggiungimento di un traguardo per chi ci segue per voi amici della comunità iscritti al canale per chi ci segue ovviamente farò un giveaway e dare un pensierino che ricorderà faremo praticamente fare un'estrazione e sui sensori faremo un'estrazione delle persone che scriveranno sotto al video ovviamente per essere estratti bisogna che siano iscritti già da un po' di tempo infatti youtube ci dice quando una persona è iscritta comunque sia senza fare razzismo tra chi è iscritto prima e chi è iscritto dopo comunque sia se entro la data del video siete iscritti perciò può essere anche il 3001 3002 3003 non ci sono problemi tra gli iscritti faremo una farò una sorta di lotteria il vincitore manderò un messaggio privato cercano di capire come si mandano i messaggi privati nella mia statistica di youtube e al vincitore ai tre vincitori daremo ciascun premio quindi ci sarà un premio fisico poi un premio di tipo sostanziale che per me ha un valore molto importante poi ci sono altri un altro premio che è ideale comunque ci saranno tre premi tre vincitori che a estrarlo liberamente da tutte le persone che sono iscritte quindi iscrivetevi al canale aiutateci a festeggiare presto e ci vediamo tra qualche secondo benvenuti nel canale Kanko Kanaiki sono Songyun Devi Cho maestro del Kanko Kanaiki sono Sesto Dan di Aikido Menkyo Okuden di Daitoryu ho qualche gratto super la cintura nera di Judo e dal 2014 ho fatto un pochino di box questo per indicare che sono una persona che pratica da tanti anni sono uno di voi niente di più niente di meno quindi l'idea è il super maestro non è così non è assolutamente così perché non mi sono mai posto in questa maniera sia nella vita di tutti i giorni che nella vita su youtube più che altro preferisco essere un amico di tutti voi che è un Senpai se posso dirlo per quanto concerne il reparto storico e il reparto Aiki lottatorio ok? un Senpai però Senpai significa un fratello maggiore detto questo allora io per tanti anni come avete visto ho praticato l'Iwama Ryu lo stile Iwama come settore Aikido e mi sono specializzato negli anni perché ovviamente ho sempre ritenuto che l'Iwama Ryu come stile di Aikido avesse un qualcosa un plus da dare ovvio questa è la mia opinione opinabile perché ci sono tanti stili di Aikido che sono stupendi per esempio la scuola Kobayashi la scuola Tissie la scuola di Endo la scuola di Shirakawa sono stupendi sono stupendi purtroppo nessuno ha tutto il tempo dell'universo per poterli imparare tutti quanti magari però ciascuno a seconda della propria indole del proprio fisico e della propria struttura mentale impara e segue quello che ritiene più giusto per sé per me l'Iwama Ryu era il modo più giusto per approcciarmi all'Aikido per vivere l'Aikido seppure io ho iniziato all'interno della scuola Tada non ufficialmente Archika Italia bensì uno dei primi allievi poi allievo di uno dei primi allievi del maestro Tada Tadashian Tadashian che è il maestro Tamburelli e per tanti anni ho seguito il suo stile che comunque si avverteva tra lo stile Tada e lo stile Tamura quindi in generale diciamo che sono cresciuto con delle ottime basi perché effettivamente è un dato di fatto che coloro che nascono dalla scuola di Tadashian hanno effettivamente delle ottime basi non si può negare questa cosa quindi anche ottime basi di etichetta è una cosa che purtroppo nell'Iwan Maryu talvolta si vede mancare gente che mentre stanno spiegando cioè un maestro sta spiegando che poi è anche Saito sensei si vedono nei video stanno in piedi dietro con le mani messe così cioè non lasciamo perdere queste non si fanno effettivamente quindi la scuola di Tada insegna moltissimo quindi chi ha l'opportunità di avere un dojo Aikikai in Italia o un dojo legato a questi tipi di ambienti si iscriva subito perché ovviamente ha delle poi magari negli anni sviluppa degli interessi differenti può fare altre cose in Brasiglian o altri stili di Aikido o stili di armi come ho messo nell'ultimo video venerdì scorso detto questo oggi vediamo Shicheno Suburi del gruppo Kenno Suburi Nana On allora i sette suburi di spada non sono la totalità dei tagli esistenti nella spada ricordiamocene abbiamo già visto che gli tsuki si possono andare anche dritti in molte scuole di Kenjutsu si danno dritti come nell'ONU Aitorio perciò non è solo questo solo che questi sono i sette codificati della scuola della famiglia Saito ovviamente e Saito Sensei le ha codificati grazie agli studi che ha ottenuto stando vicino a O Sensei per tutti quegli anni perché lui è stato uno degli allievi che ha vissuto proprio con una sensualità proprio da ucciderci in proprio per tanti 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 anni quindi ha questa differenza in confronto ad altri che magari sono hanno visto Sensei come noi vedremmo i miei gli evi mi vedono mi vedono neanche vivono con me mi vedono non che sia O Sensei chiariamoci però sto dicendo se facciamo un paragone a voi con i vostri maestri ovviamente li vedete solo dentro il dojo o al massimo a berci un caffè o una birra o quello che volete voi Saito Sensei invece ci viveva la moglie aiutava la moglie di O Sensei cioè quindi questo per dirvi che c'è una piccola lieve differenza come d'altro mondo in Ligua Mario io ho sempre definito questo ci sono dei grandi luminari dell'Igua Mario non si può negare grandi allievi però in confronto un Saito Itoiro O Sensei lo so che è una persona che è cresciuta con col padre quindi in generale qualcosina in più è palese che lo abbia quindi questo non per farvi entrare nella polemica non è nel mio interesse fatevi la guerra tra di voi io personalmente non sto solo esponendo quale da storico qual è la mia opinione ok? sempre opinabile però è la mia opinione detto questo allora vediamo Cicino Suburi come abbiamo visto ora prendiamo di voi la guardia della spada come vi ho sempre detto la punta della spada deve essere in mezzo agli occhi più lungo possibile ok? non puoi io posso fare la stessa cosa appunto però mantenendo l'Elsa giù e quindi sono cortissimo e questo è sbagliato devo essere più lungo possibile ok? le gambe devono essere basse devono essere forti per poter avanzare in Tsuki Ashi o Ayumi Ashi quello che volete voi comunque si deve essere sempre pronto ad agire ok? non fate l'errore di mettere il sedere fuori come vedo in alcuni video li ho visti sono bruttissimi da vedere bensì sedetevi e siate pronti ad avanzare ok? questa è la cosa importante da comprendere e io sto avanzando in una conca ricordate perché la zona dove sto facendo i video la zona garage ovviamente per far fluire l'acqua giù a questa conca quindi se riesco a muovermi in una certa determinata maniera vuol dire che dove potete poi che state magari praticando nel piano potete farlo serenamente allora iniziamo da qui da questa posizione io salgo in secondo Tsuburi ok? di spada perciò guardatevi il video del secondo Tsuburi di spada qui toccherò la schiena quando le mie gambe si sono avvicinate e taglio quando taglio io da qui nel secondo Tsuburi posso tagliare dritto sciomenucci ok? perciò showman perciò la parte centrale del man bensì scusatemi da qui io quando taglio farò un movimento in diagonale che è il naname e taglierò sul naname ok? non serve fare un naname lungo si può fare anche un naname molto corto però è un dato di fatto che se il nemico l'avversario sta arrivando qua io chiamo nemico perché ricordatevi nei Kumitachi Uchitachi muore perché ci sta attaccando Uchitachi lo uccide quindi non è sbagliato di definire che è un nemico quindi da qui l'attimo in cui arriva io posso muovermi lontano e tagliare con un avversario che stava arrivando ok? quindi non è sbagliato fare angoli ampli però se idealmente voi che state guardando il video siete alla linea d'attacco fare un movimento larghissimo è sbagliato quindi da questa posizione qua io taglierò peculiarità del il sesto abbiamo visto il sesto suburi da qui facciamo subito tzuki ok? il settimo invece gira il corpo perciò io lo tzuki lo farò nel lato opposto da dove ho tagliato quindi se col desu se ho tagliato su migi e sul migi no kamae migi ammi ho tagliato su migi ammi farò lo tzuki su hidari ammi ok? e alla fine arriverò in hidari no kamae quindi una volta che ho tagliato io devo arrivare a fare uno tzuki qua e come si fa? lo vediamo con calma una volta tagliato ok una volta tagliato prima di tutto sto girando il ken perché non qua alla fine dello tzuki quando io comincerò a dare lo tzuki il filo della spada che è la parte panciuta scusate il termine però effettivamente è così la parte panciuta non deve guardare la mia pancia se io facessi lo tzuki così no perché il filo andrebbe totalmente sulla mia pancia cosiddetto rinculo se colpisci l'avversario con un oggetto però da qui io sto girando insieme al giro giro l'anca l'anca gira e la spada gira con me ok deve girare l'anca nel girare l'anca io entro subito e faccio tzuki questo è importantissimo non dovete fare U no questo è sbagliato state facendo due movimenti in due tempi perciò una volta tagliato molti fanno questo U no ok si vede fatto magari si vede che sembra la stessa cosa ma non è così non è assolutamente così è un errore come quando faccio il quinto suburi di spada e lo vedremo quando lo faremo il secondo movimento io devo attaccare subito devo attaccare subito l'anca non faccio U no questo è sbagliato sono due movimenti una persona neofita lo pare che sono tutti identici gli esperti ti dicono no stai prendendo una frazione di secondo ed è importante che comprendiate che state perdendo una frazione di secondo controllo se non mi ho messo bene quindi da qui ritornando a noi come si fa il movimento giusto io qui sto sto girando la spada la pancia stava andando verso la mia destra cioè il filo sta andando verso la mia destra mentre la mia anca sta vedete sta girando l'attimo in cui gira l'anca è pronto perché sono come una molla e da qui entro ok alcune persone fanno questo una volta tagliato perché il taglio è basso girano con il ken che rientra e fanno questo che non è sbagliato perché ci sono dei video in cui si vede sembra che i saito facciano questo movimento quindi non è sbagliato però tendenzialmente se io ho tagliato e l'avversario sta andando via questo movimento del girare perché si abbassa il ken può rialzare perché si sta applicando uno dei kumitachi ok uno dei kumitachi perché nei kumitachi soprattutto il secondo e il quarto kumitachi ma anche nel quinto viene toccato il ken così che io posso entrare quindi scendiamo insieme viene toccato il ken e io sono obbligato a cambiare direzione perché voglio cambiare il metodo di attacco questo perché compare nei kumitachi ma quando si fanno i suburi tendenzialmente una volta che io attacco non c'è bisogno di abbassare per rialzare bensì una volta che io taglio io giro per entrare dentro ok una volta che sono entrato dentro voglio proseguire quindi facciamo un rewind partendo da molto indietro perciò se abbiamo tagliato abbiamo fatto tzuki ok poi qui faccio il divuo il quinto suburi pam e faccio il divuo tzuki molto molto interessante questo perché l'idea di questo tipo di esercizio è che io faccio eseguo hiratsuki faccio lo tzuki col ken di lato piatto parallelo tendenzialmente parallelo perché ovviamente se faccio uno tzuki verso l'alto non è più parallelo al suolo comunque se il piatto dello tzuki perciò il filo non è basso nel filo è verso l'alto come in alcune cori di kenjutsu il piatto della spada è tendenzialmente in parallelo col suolo tendenzialmente ok nota come vi ho detto nell'attimo in cui io attacco posso attaccare qua a seconda dell'attacco dell'avversario ma io posso fare uno tzuki girando più in là perché l'idea è identica al sesto suburi abbiamo visto che quando noi facciamo tzuki noi possiamo fare tzuki in varie direzioni a seconda di dove siamo dove l'avversario che si è girato invece non è per forza uno e devo girare due bensì dove avrei fatto il primo tzuki se l'avversario ha girato se non riesco a raggiungerlo con un taglio perché l'idatsuki era nato proprio per il fatto che il filo della spada potesse tagliare ok? potesse tagliare quindi se l'avversario ha girato io posso girare l'anca e attaccare questa era la bellezza dell'idatsuki quindi quando io taglio l'attimo in cui faccio tzuki l'avversario gira io posso girare con lui e tagliare prima gira l'anca sempre l'anca gira l'anca e la gamba fa tzuki ashi bellissimo interessantissimo che appartiene al principio fondamentale dello stile di wama che è bellissimo escludete il fatto che molti lo fanno in modo rigido quello è il loro modo di fare e hanno questa abitudine neanche sbagliato lo fanno perché l'hanno imparato in questa maniera se si impara a farlo bene cambia soprattutto se si fa il confronto con alcune squadre di kenjutsu come l'ono ai toryu ok? nota pertanto io posso tagliare posso fare l'idatsuki perché l'attimo in cui decido con l'anca di muovermi io posso muovermi in qualsiasi direzione dello spazio per fare l'idatsuki ok? quindi non è per forza di cose u no questo è l'esercizio l'esercizio del suburi può essere fatto in spazi stretti però dal suburi dobbiamo imparare a fare l'esercizio preciso e l'esercizio preciso mi identifica che io posso muovermi come un ventaglio attorno all'avversario ok? posso muovermi e ora che abbiamo fatto il settimo suburi possiamo unire i vari suburi ok? perciò facciamo conto io faccio un terzo suburi quindi arrivo qua l'avversario arriva sta arrivando voi siete l'avversario state arrivando io taglio e poi faccio tsuki perché applico il settimo suburi ed è bellissimo io personalmente sono sempre molto affascinato da queste cose dal settimo suburi posso rialzarmi al secondo e tagliare di uovo e da lì posso inventare mille mille approcci mille tecniche perché il takemuso haiki non è soltanto il braccio che si muove nello spazio dove mi tocco e faccio infinite tecniche bensì è la capacità di unire per il principio kentai giovani tutti i principi del ken del jo e del corpo tai in un tutt'uno e fare in modo che vivano contemporaneamente in tutti e tre modi però nel contempo non ci siano limiti perché le forme sono dei kata le kata possono essere applicate in kata geiko o in vari kumitachi kumi jo kentai jo in quel caso spada contro jo possono essere applicate in varie maniere però la capacità e questo la famiglia Saito soprattutto Saito Itoro sensei lo fa vedere attraverso i suoi figli l'idaime soke della scuola dentro iwama ryoko ossia iwama shinshinyaki shurenkai lo mostra lo mostra sono dei movimenti stupendi cioè praticamente da un da un kumi jo passa all'improvviso a fare un jodori cioè delle cose meravigliose che Saito sensei aveva comunque messo i semi in tutti i praticanti della sua scuola ed è fantastico fantastico perché non sei limitato solo solo esclusivamente al movimento in kata perché il kata ti insegna la forma non ti insegna la tecnica ok ti insegna a fare quella forma e attraverso quella forma ti insegna a dare a darti le basi della tecnica ma la tecnica non muore solo attraverso il kata ok dal kata si deve evolvere in qualcosa di più nel mio caso unendolo con l'onuai toryu della scuola daito ossia quello che è rimasto dell'onuai toryu della scuola daito da cui provengo ovviamente ha permesso di comprendere meglio lo tsuki ok e da lì si possono fare anche altri tagli che si possono aggiungere perché ricordiamoci ci sono sette suburi è vero però i tagli sono molti di più molti di più e per il kenta jo di nuiai già il fatto che portiamo alcuni tipi di tagli tra virgolette tagli che possiamo applicare dal jo ok nel ken vuol dire che stiamo facendo qualcos'altro per esempio nel ken noi facciamo appunto io voglio fare che si vede nel movimento 9 del kata 331 del san juicino giocata nel movimento tent 1 faccio ushiro barai ok faccio un movimento di ushiro barai idealmente io posso fare lo stesso movimento con quando ho il ken ossia ho tagliato l'avestate sta arrivando taglio eh signori kenta jo e nuiai vuol dire che io posso applicare gli stessi principi del ken col jo e viceversa ed è magnifico magnifico alcune cose sono più visibili se io faccio ora dopo questo video cominceremo a vedere i i tagli del jo ok ok e il i menucci con per precisione e cinque tagli che vengono studiati all'interno del sistema jo ok però già lì vediamo in azione l'uso del ken come principio trasportato del jo è visibile a tutti e a tutti tendenzialmente dovrebbero capire che si sta facendo quello però però quello che non è visibile è il messaggio che c'è dietro ossia come nel caso che da jonk per fare da jonk io devo passare da da ikkyo perciò faccio un ren raku già faccio un ren raku perciò devo fare da ikkyo omote poi da lì faccio jonk questo vuol dire che ren raku ossia il continuo evolvere la tecnica seconda della situazione dell'avversario del mio controllo dell'aiki nello spazio nel tempo mi permetterà di fare infinite tecniche da tutto il curriculum che ho fantastico fantastico infatti per questo motivo che sono ancora innamorato del sistema aikido perché l'aikido in confronto al dai toryo è ancora più libero mentalmente perché wo sensei ha avuto questa idea il takemus of aiki effettivamente era l'idea di fare in modo che non fossimo focalizzati solo nel kata bensì fare tutte le cose in maniera infinita che non vuol dire fare il jiku waza il jiku waza è una tecnica libera bensì è evolvere il nostro corpo la nostra metodologia la nostra mente a seconda della situazione e qui nel ken si vede quindi io posso fare varie cose col ken che vi derivano dal jonk come del resto posso fare alcune cose quando noi facciamo per esempio anche tachidori ok o jodori si vede di più nel jodori per esempio perché lì ci sarà l'input nel jodori noi possiamo facciamo che sarebbe no più che jodori jomochi scusate si vede di più nel jomochi quando noi facciamo jomochi ossia col jioo ci stiamo difendendo da una persona che ci ha afferrato il jioo perché è un bastone ci si afferano lì si fanno tecniche che sono identiche a ikkyo ci sono tecniche che si umiliano a nikkyo ok dai nikkyo e dai ikkyo è bellissimo bellissimo tutta questa manfrina per dirvi allenatevi a creare delle fondamenta forti fate in modo che i vostri suppori siano potenti e i vostri kata siano ancora più forti e da questa struttura che è soltanto una sono delle lettere delle lettere di un alfabeto per creare una prima parola una volta creata la prima parola cominciate a creare frasi dalle frasi cominciate a fare dei temi dei temi dai temi cominciate a creare poesie o tesi questo è quello che ci si aspetta da un praticante di iwama ok? detto questo festeggiate con me vi ringrazio di essere stati qua iscrivetevi al canale perchè ci state dando una mano e quindi siamo vicini ai 3000 dai siamo comunque non siamo il canale più forte del più grande eccetera eccetera che poi forte grande non è relativo l'importante è la qualità con cui diamo i messaggi attraverso youtube però effettivamente con l'ambiente Aikido il nostro canale risulta il canale più esponenzialmente più grande rispetto a tutti i canali italiani di Aikido poi vabbè ci sono i canali del mio amico Lenny Sly o di Aikido Flow che sono giganteschi ma ci hanno altri tipi di mercati ok? quindi aiutateci a crescere ragazzi perchè possiamo cominciare a dare un voce alla qualità che si trova in Italia nel mondo perchè effettivamente diciamo c'è verità molti canali sono dei canali grandissimi per quanto non c'è Aikido nel mondo però qualitativamente non raggiungono un dojo medio italiano perchè il dojo medio italiano si pratica molto meglio in confronto a quello che si vede nei video ok? poi possono piacere non piacere a me per esempio il Lenny Sly piace molto però quello che sta mostrando personalmente lo trovo in tutti i dojo dell'Ikigai scusatemi tanto ok? non per polemizzare però l'idea è quella la ok? è comunque un amico non sto facendo dissing sto solo dicendo la mia opinione da praticante anziano quindi iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti